Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Squadbuster, eccoci qua su Secondo Ferre, anche oggi su Squadbuster e anche oggi a conoscere un altro pezzettino di questo nuovo gioco che oramai si avvicina sempre di più al suo lancio globale. Allora, come sempre, rito di iniziazione proprio dei video, mi piglio le monete a questo domatore che, ok, non me le voleva dare, e la cassettina gratuita sono pur sempre risorse importanti. Un occhiato allo shop che mi dà due Greg, e sono buoni, van benissimo, guarda, non ci lamentiamo. Detto ciò ragazzi, oggi parliamo di Maghetto, comincio a fare una partita e poi dopo affrontiamo il discorso. Tranquilli, questo non sarà un video dove mi metto di nuovo a fare tutte le punti per sbloccare l'incantesimo. Volevo darvi appunto una tip, una cosa che ho scoperto nuova proprio oggi ragazzi, parto subito con un game e mi prendo subito i Goblin, tra l'altro che start ragazzi, c'ho subito un pacco di roba, allora mi prendo un bel colt così aumentiamo il danno, e qua ragazzi c'è tutto doppio, bisogna stare super attenti. No, non ciò casse, non ciò casse, che sfortuna, togliamoci sto coso per favore, così ci dà un po' di oro, ok. Uh, la regina, buona la regina, come il pane proprio. È chiaro che bisogna puntare molto sulle fusioni ragazzi, perché qua un attimo e ci si perde subito, eh. Allora cerchiamo di far fuori sto draghetto, ok, buono, e abbiamo subito un sacco di oro, buonissimo, facciamo così. Allora colt per forza, così facciamo una fusione, almeno una, ok. E andiamo qua, ci prendiamo questo, facciamo così, ok. E qua ragazzi farmarsi, la roba è fondamentale, è veramente fondamentale, facciamo così, ok. Ok, tra l'altro vedo qua che ci stiamo già, ah, attenzione a questo, attenzione a questi qua. No, la gallina non la voglio, grazie, mi prendo un goblin, sinceramente, perché l'oro è fondamentale qua. Ok, faccio così, e mi prendo, e mi prendo un boh. Oddio, in realtà il goblin poteva essere la scelta giusta perché facevo un'altra fusione senza neanche rendermene conto. Bellissimo questo qua, attenzione a questo, ce lo cucchiamo. Attenzione, lo stiamo schiacciando tipo tantissimo o sbaglio? Si sta facendo schiacciare tantissimo o sbaglio? Cioè se continua così lo killo, eh. Ok, ci prendiamo tutto, buono, risaliamo, facciamo così. E dicevo, ecco qua mi prendo un bel goblin, così facciamo un'altra fusione, e in teoria io se becco un'altra cassa, eh, praticamente con quattro monetine mi ne faccio un'altra. Vediamo un po' cosa c'è qua, eh, qua per forza il barbaro, e chissà cosa mi costa adesso fare un potenziamento, ciao. Ciaoone, guarda questo, guarda questo qui con i dottori. Ma è matto questo, raga. Qua ragazzi è proprio, mamma mia, mamma mia. Mi faccio pure la fusione di nuovo. Qua siamo veramente forti, ragazzi, eh. Potrei provare anche un push sul mid, perché qua facciamo veramente male, eh. Eccolo qui. Che male che facciamo questi, mamma mia. Attenzione a questi qua. Attenzione a questi qua. Li sfondiamo, raga, li distruggiamo. Lo distruggiamo questo. Ciao bello, è stato un piacere. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. La regina di nuovo. Ok, ci togliamo il draghetto. Ciao. Gestiamoci sto golem che ci dà un pacco di roba. Ma questo cosa fa esattamente? Cassettina. Altra regina. Raga, cioè, qua la situazione è fuori controllo completamente, eh. Non vorrei dire. Non vorrei dire, raga. Io qua faccio quello che voglio, praticamente. Ma che partita sta uscendo? Ma che conte sta uscendo? Guarda questo di nuovo. Attenzione. Altra regina. Vabbè, sta veramente piovendo sul bagnato qua, ragazzi. 157 gemme. E secondo me abbiamo fatto anche un po' di kill sta partita, effettivamente. È uno, due. Me li sono killati io. Ho fatto una doppia kill, ragazzi. Buono, molto buono. Prima posizione doppia kill. Cioè, deve likearsi le dita. Va bene. Allora, ci prendiamo la cassettina. E adesso vi dico, appunto, la roba che ho scoperto, raga. Allora, vi faccio vedere questa missione. Se vado qua, praticamente mi segna 280 incantesimi, quelli necessari per completare la missione. Ma in realtà non è così. Questi dovrebbero essere 300. Cioè, per farvi capire, io avevo anche la screen di questi 300 incantesimi di cui vi stavo parlando. Perché? L'altro giorno mi è uscita la missione, ok? Ci volevo portare un video, poi, per impegni e altro, non sono riuscito a portarvelo. Quindi ho detto, vabbè, pazienza. Il video è saltato. Porterò poi un altro contenuto. E invece la missione mi è riuscita di nuovo. Ma, in questa maniera, con 280 incantesimi richiesti. Questo vuol dire che quando fallite le missioni, questi vengono riproposte in maniera più semplice. Ovviamente parlo delle missioni per sbloccare incantesimi. Quindi il gioco vi porta, piano piano, a sbloccarli tutti e anche facilmente questi incantesimi. Cioè, questa tip qua è allucinante. Mi piace un sacco. Cioè, non si rimane più che altro bloccati. Anzi, a lungo andare dovrebbe diventare sempre più semplice sbloccare questi incantesimi. Anche quando questi avranno richieste di quantitativi assurdi. Perché, ovviamente, faranno incantesimi chissà quanti punti ci vorranno. Già l'ultimo me ne chiedeva 60. Adesso me ne ha chieste 300. È un per 5. Però, come dinamica, è molto interessante. Ok, nel frattempo abbiamo velocità smodata. Ok, non sono convintissimo. E devo essere sincero, Rick. Allora, mi prendo un colt. Ok. E mi vado subito a togliere un robottino qua. Va bene. Ci vorrà un attimino qua a far fuori tutti. Ok, mi devo farmare giusto un attimino un po' di robette. Nella prima fase è più complicato. Ok, un bel Greg per farmare, appunto, è ottimale. Facciamo così. Piliamo tutto. Andiamo via. Facciamo così. Ottimo. Facciamo cosà. Facciamo un altro colt. Ce li gestiamo tutti, questi? Assolutamente sì. Andiamo a prenderci anche un altro abberello qui. Guarda questa qua. Subito chill così. Vabbè, ragazzi. Vabbè. Scusate. C'è proprio una free kill, letteralmente. Ok, ci prendiamo due Greg che, per farmare all'inizio, ripeto, vanno sempre bene. Facciamo così. Buono. Ci prendiamo tutto quanto. Va bene. Andiamo qua. Colto Greg. L'altro Greg faccia una fusione. Top. Così qua ci prendiamo magari anche un colt. Facciamo un doppio fusione. Sì. Perfetto. Questo qua ce lo andiamo a togliere. Nì. Facciamo così. Su questo qua ce lo andiamo a togliere. Guarda che zitto, zitto questo forse... Sì. Bello. Attenzione al gozilone. Attenzione al gozilone. Ok, buono. Niente, ho sto gozilone. Non mi lascia stare, ragazzi. Devo andare via. Mi prenderei nascelli, sinceramente, adesso. No, le piante mi hanno tolto la cassa. Mannaggia la miseria. E mi prendo un medico, sto giro, che torna sempre utile. Lui. Va bene. Gestiamoci il robottone. Facciamo così. Andiamo a prenderci un'altra cassettina. Facciamo una fuga perché ci arriva il gozilone di lì. Facciamo così. Ci prendiamo un'altra shelly. Va bene. Scendo giù di qua che dovrebbe avere un'altra cassa. Sì, infatti. Che diventa pure epica. Regina. Top. Mi gestisco un attimo tutta la situa. Facciamo un bel cannoncello qua. Facciamo così. Uh, attenzione. Secondo posto. Bello qua. Tutte per noi. Buona. Ci teniamo in primo posto. 112. Numero fortunato, ragazzi. In realtà non mi serve neanche strafare perché io già così me ne sto. Mi prendo giusto un incantesimo. Mi sono fatto la mia doppia kill anche sta partita. Il mio primo posto anche sta partita. Oh, signori. Ma più. Cioè, più di così. Ma siamo veramente messi alla grande. Baule grande raro. Vediamo cosa mi esce. Dei domatori. Va bene. Che sono pure potenziabili. Ce li potenziamo. Un libricino. Ce lo pigliamo. Allora, startiamo un altro game. Avvio con fusione. Attenzione. Qua se ci parte un Goblin o un Greg è tipo top. Greg. Perfetto. Andiamo subito alla fusione almeno. Vai. Ok. E ci andiamo subito a one-shotare gli alberi. Ok. Vai. No, Greg. Non mi perdere tempo con i robottini. Grazie. Ok. Facciamo così. Qua ci prendiamo un Colt. Perché tanto Greg è già a posto. Non serve prenderne altri. Togliamo tutti questi cosi qua. Ok. Però io devo fare fuori dei grandissimi alberi, ragazzi. Vediamo se ce lo riusciamo a gestire. Questo qua non se lo aspettava l'incantesimo. Ci è rimasto male, ragazzi. Questo qua l'incantesimo non se lo aspettava. Un altro bellissimo Bo. Facciamo così. Attenzione al Golem. Ok. Gestiamolo. E qua il Golem si tira giù easy. Ok. Allora, qua ci prendiamo un altro Colt e facciamo un'altra fusione. Qua facciamo fuori un bocciatore. Un bel primo per avere un po' di solidità. Lo pigliamo. Ok. Questo qua io lo pusherei abbastanza, sinceramente. Questo qua col pollo. Ma sì, dai. È una free kill questa, dai. Ok. Let's go. Ci prendiamo un altro primo, chiaramente. Perché ci puntiamo a fare la fusione. Altro primo? Altro primo. Potremmo farci anche la fusione di Boe, sinceramente. Però va bene così. Ci gestiamo il Golem. Ok. Buono. Facciamo così. Un bel colt di nuovo. Va bene. Facciamoci fuori questo. È una free kill questa, in teoria. E sai che non lo so? E non lo so. Abbiamo un po' rischiato, in realtà. Qua ci sta un Barbarello. Va bene. Facciamo così. E chiaramente si fa quello che si può. Facciamo così. Qua ce la scappiamo un attimo. Facciamo così, in cantesimo. E qua possiamo gestircela bene. Questo qua, ragazzi, mi sta facendo molto male. Ma gli facciamo più male noi a lui. Ok. Coltiferous. E abbiamo rischiato un po'. E quel fight. Non è che a livello numerico eravamo messi molto bene. E io sto sopra, ma non di tantissimo. Mi serve un altro personaggino. Una regina qua. Ci sta tutta. Ho attenzione a queste bellissime gemme. Mi hanno preso la posizione. Eh, ma perché penso che in mid ci sia un po' di delirio. Infatti. La facciamo la kill sul finale. Ah, peccato. Secondo posto. Non è male. 87. Stavamo per recuperare pure la prima posizione. Qualche kill comunque ce la siamo fatta. Ed è un grandissimo, un grandissimo comune. Ok. Ok, 8 goblin nel chill. Ce la prendiamo e ce li potenziamo anche. Ma va bene. Io giuro che ora che ho scoperto sta cosa sull'incantesimo. Sono proprio più sereno con le missioni dell'incantesimo. Proprio serenissimo. Ci sbloccheremo l'incantesimo un po' più con calma. Ma va benissimo. Va benissimo così. Noi per ora siamo giusti al termine del video. Vi ringrazio come stiamo per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Un salutone e... Ciao belli.